salve a tutti ragazzi bentornati su come ho messo lo spacchettamento scusate se oggi non vado come l'uomo del neonatico ma io direi di cominciare veramente subito allora cominciamo veramente wow bellissimo spacchettamento e bolli argi sono un orario gruppo dei selfisti anonimi l'intelligenza e dei modelli risposte facili di le minuti ma non mi aspetta che tonti ma non mi aspetta non mi aspetta si un posto un posto di città che adesso ne manchiamo a tutti non mi aspetta non mi aspetta vai 520 di ora 2, 10, 5, 16, 18, 19, 19, 20, 19, 20, 20 Ok, stiamo arrivando dal baltro 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9 l'interno buono di bene la vera si muove se c'era principe perfetto perfetto poi dam 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 la vita si distrae cadono gli amici 250 ruocitaggi a 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 La città è la città, è la città, è la città. lo proviamo subito raga ah forse c'è c'è blyce forse può accettare no niente non accettano comunque era bello fare una sfida doppio lisi non so se esce perchè lì nei torni non c'è volevo andare a provare gli scheletrini infatti adesso intanto per curiosità per vedere se sono veramente 4 si certo ovviamente sono 4 andiamo vai mi metto qua nel deck vai la vaunt vai proviamo tanto poi è un'arena di prova quindi devo soltanto cercare gli scheletrini devo check gli scheletrini ecco ce li abbiamo subito eccoli sono 4 bene 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 ecco lì ok back in là e soltanto 2-3 scheletrini ecco la base oggetto 3-3 e poi c'è molto schiettini no vabbè raga vabbè chiudevamo perchè dai comunque dai sono dai comunque il gigante royale mi perseguita raga veramente il gigante royale mi perseguita com'è possibile in uno spacchettamento così aver trovato tipo 300 giganti royale dai su mamma mia vabbè comunque bello spacchettamento tutto sformato di epic ne abbiamo trovato due il principe ci va benissimo quindi direi che per questo video può essere davvero tutto spero che vi sia piaciuto almeno voglio 10 like e commentateci vediamo alla prossima e iscrivetevi ciao raga